Musica Ben ritrovati all'appuntamento con Toscana Oggi da Riccardo Vigi e Simone Pitossi Andiamo a vedere cosa c'è sul nuovo numero del settimanale dei cattolici toscani Si parla di sanità in apertura per il bilancio dei 40 anni del Servizio Sanitario Nazionale Quindi con una riflessione sulla situazione del mondo sanitario In prima pagina anche l'editoriale di Domenico delle Foglie Che parla della possibilità di costruire un forum civico che possa mettere insieme le migliori energie del mondo cattolico Si sta parlando molto in questi giorni di come aggregare o come trovare delle forme per incanalare l'attenzione dei cattolici Verso il bene comune, verso l'amministrazione pubblica Poi ancora un altro intervento in prima pagina è quello di Marco Lapi Che racconta di nuovo in maniera più approfondita e più attenta la storia di Caterina Ne avevamo parlato la settimana scorsa nelle pagine fiorentine di Toscana Oggi Dove si era raccontato il funerale di questa giovane donna, giovane mamma Che nel 2012 alla sua seconda gravidanza aveva avuto la diagnosi di un tumore Non aveva ascoltato le indicazioni dei medici che spingevano per l'aborto Vista la pericolosità, la necessità di cure intensive Ha quindi dato la luce del suo bambino, ha continuato a curarsi Adesso però poi la malattia ha avuto il sopravvento Quella di Caterina, scrive Marco Lapi È la lezione di una madre coraggiosa che insegna a vivere e a morire da cristiani E entrando all'interno delle pagine di Toscana Oggi Ritroviamo l'argomento che apre la prima pagina del giornale Ovvero i 40 anni del Servizio Sanitario Nazionale A tracciare un bilancio di questo anniversario è Francesco Marchi Che è cardiologo e per anni è stato primario dell'unità di terapia intensiva cardiaca Dell'ospedale di Santa Maria Nuova a Firenze Il professor Marchi ci dice appunto che il Servizio Sanitario Nazionale È stato varato il 23 dicembre del 1978 E ha mostrato in questi quattro decenni tutto il suo valore Oggi appunto però si guarda troppo agli aspetti economici E la nostra sanità funziona ma si potrebbe far di meglio Questo è il titolo Infatti possiamo essere fieri di un sistema che cura tutti E raggiunge risultati di eccellenza Eppure gli italiani e anche i toscani non sono del tutto contenti Perché alcune criticità ci sono Come per esempio il reclutamento degli infermieri Oggi fatto esclusivamente tramite la laurea Il finanziamento e l'organizzazione degli ospedali E purtroppo il problema annoso delle lunghe liste di attesa Talvolta per fare un esame Bisogna aspettare molti, davvero molti mesi Continuando a sfogliare le pagine del settimanale Troppiamo un rapporto sulle compravendite Delle abitazioni in Toscana C'è un saliscendi di prezzi Nelle città toscane Sono in genere privilegiati i centri storici Con prezzi più alti E le zone fornite di buoni servizi C'è un caso Prato però Perché lì la zona meno cara è la parte più vecchia Continuando a sfogliare Nasce in Toscana un tavolo regionale Per il contrasto alla povertà e all'esclusione sociale L'obiettivo è quello di condividere programmi e attività Contro il rischio della povertà Giacomo Martelli che è il portavoce di Alleanza contro la povertà Dice che per offrire una rete di protezione Ma soprattutto l'opportunità di ripartire Andando ben oltre il sussidio economico E ridando dignità alle persone Questo appunto è l'obiettivo di questo tavolo regionale di regia E infine sulle pagine di attualità Prima di entrare in informazione religiosa C'è un rapporto di Save the Children Che denuncia violazioni contro i minori nei conflitti in corso Yemen Il dramma dei bambini sotto le bombe vendute dall'Italia Sono 420 milioni, 1 su 5, i minori che vivono in aree di conflitto In crescita di 30 milioni rispetto all'anno precedente C'è una petizione pubblica contro la vendita delle armi Prodotte nel nostro paese e usate proprio in Yemen In Medio Oriente dalla coalizione a guida saudita Andiamo su Ecclesia, la parte di informazione religiosa Del settimanale dove troviamo come sempre la rubrica Risponde il teologo Si parla stavolta di elemosina Il lettore chiede come dobbiamo comportarci Quando ci chiedono l'elemosina Chi frequenta il centro delle città Spesso si trova tante richieste di questo tipo E Don Leonardo Salutati Che è docente di teologia morale Di pastorale sociale in particolare Spiega il senso, il valore, il significato Delle elemosine e dell'attenzione Soprattutto che dobbiamo sempre avere Per chi è nel bisogno Un'attenzione che si può poi manifestare in tanti modi Ancora dalle pagine di informazione religiosa Il percorso avviato dalla consulta regionale Delle aggregazioni laicali Iniziato a Pistoia Una serie di incontri per coinvolgere Associazioni, movimenti Il laicato organizzato della Toscana Per mettere a confronto i problemi Che ci possono essere O le idee, le prospettive Ancora la nomina Una nomina che riguarda anche la Toscana Perché il nuovo vescovo ausiliare di Perugia Sarà Don Marco Salvi Prete della diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro E parroco di Anghiari Che andrà appunto a fare il vescovo ausiliare Del cardinale Gualtiero Bassetti In sostituzione invece del nuovo arcivescovo di Lucca Monsignor Paolo Giulietti Che farà il suo ingresso a Lucca invece il 12 maggio Da Pontremoli invece la notizia Che Suor Serafina Formai È diventata venerabile È stato firmato da Papa Francesco Il decreto che riconosce le virtù eroiche Di questa religiosa Che a Pontremoli è la fondatrice Della congregazione delle Suore Del lieto messaggio Così arriviamo ad inventario La parte di Toscana oggi Che si occupa di cultura, arte, spettacolo e televisione L'apertura di inventario La prima pagina di inventario È sul Museo della Follia Martedì 26 febbraio a Lucca Vittorio Sgarbi inaugurerà come curatore Questa particolare esposizione itinerante Che ora appunto fa tappa nella città lucchese Fino al 18 agosto Presso la Cavallerizza in Piazzale Verdi Nella storia dell'arte Anche prima dei casi clamorosi di Van Gogh E di Ligabue Molti sono stati gli artisti La cui mente è stata attraversata dal turbamento Ognuno di loro ha una storia Una dimensione che non si misura con la realtà Ma con il sogno E questa particolare esposizione Ci parla proprio di questo E poi un approfondimento sulla Divina Commedia Su Dante Alighieri L'amore salverà il mondo Il titolo della pagina Nel Paradiso L'amore è fondamento di armonia universale Sulla Terra È in tensione con le passioni E con gli istinti Che irrazionalmente vanno dominati Per tradurre efficacemente L'amore in potenza Che ognuno ha In amore in atto E poi mostre Libri Un libro di Franco Cardini Sulla Via della Seta E poi il cinema E la televisione Con il Paradiso delle Signore La TV che sa sorprenderci Andiamo a vedere le edizioni locali Di cui si compone Toscana Oggi Iniziando come sempre dalla voce Di Arezzo, Cortona e Sansepolcro Qui si trova l'annuncio Dell'incontro Che farà ad Arezzo Monsignor Francesco Soddu Il direttore di Caritas Italiana Che sarà ad Arezzo Il 23 di febbraio Per una iniziativa Per presentare il nuovo volto Della Caritas Diocesana Dal Sinodo Diocesano di Arezzo Alla profezia della carità Questo è il titolo che unisce Questi due momenti importanti Per la Diocesi Aretina Sulla parola di Fieso E la testata della Diocesi Fiesolana Troviamo due notizie Proprio in prima pagina La prima è che è già stato annunciato Il momento di festa diocesana Di bambini e di ragazzi Con il Vescovo Sarà sabato 13 aprile Vigilia delle Palme Qui ci saranno alcuni momenti di gioco E poi la processione Con i rami d'olivo Attraverso le vie Della città di Figline Valdarno E poi la celebrazione Della messa Nella piazza principale L'altra notizia È Casa Don Bosco Che da desiderio Sta diventando un progetto concreto Casa Don Bosco Che è un progetto Dell'oratorio Don Bosco Di San Giovanni Valdarno Ha l'obiettivo ogni giorno Di condividere un pasto Con i ragazzi Che frequentano Le scuole medie Della città E che non hanno possibilità Di stare con i genitori E allora condividere un pasto E poi studiare insieme Fare sport E anche condividere Alcuni momenti ricreativi E di divertimento Per fare tutto ciò È stata aperta Una raccolta di crowdfunding Di raccolta fondi online Sul portale di Eppela Che trova anche La collaborazione Della fondazione Il cuore si scioglie Sono 10.000 euro L'obiettivo della raccolta Al compimento Della raccolta Di 10.000 euro Anche la fondazione Il cuore si scioglie Metterà a disposizione Altri 10.000 euro Per questo bellissimo progetto Andiamo sull'osservatore toscano Diocesi di Firenze Qui si parla Delle celebrazioni Per i 150 anni Di azione cattolica Fu creata Infatti fu creato Nel 1869 Il primo nucleo Di azione cattolica In diocesi Di Firenze Domenica 3 marzo Una giornata Per ricordare Quel momento E su Toscana oggi Anche La ricostruzione Il ricordo Di questi 150 anni Con alcune fotografie E anche con Il racconto Dei vari personaggi Da Giorgio Lapira A Gino Bartali Che hanno Che sono stati Soci dell'azione cattolica Fiorentina E così arriviamo A rinnovamento La testata Della diocesi Di Grosseto Qui Torniamo a parlare Del sinodo dei giovani Lo facciamo Perché in una serata Promossa Dalla parrocchia Della dolorata Di Grosseto E dalla pastorale Giovanile Con tre protagonisti Di quell'assemblea Dei vescovi Cioè tre giovani Che hanno partecipato Ci raccontano Che cosa Hanno fatto In quei giorni Qual è stata La loro esperienza Il tema Il tema era I giovani La fede Il discernimento Vocazionale I giovani Sono Rita Che è libanese Malou E Andres Che è argentino Che sono argentini E sono stati appunto Testimoni Di questa esperienza Vissuta Tra marzo E ottobre Del 2018 I giovani Hanno detto Agli altri coetanei Che hanno partecipato All'incontro In questa parrocchia Noi siamo stati protagonisti Di un dialogo Senza filtri Abbiamo provato A dare voce Ai giovani Di tutto il mondo Su Lucca 7 In attesa Del vescovo Il 12 di maggio Dunque farà ingresso Il nuovo arcivescovo Di Lucca Monsignor Giulietti Nel frattempo C'è una verifica Della vita comunitaria L'arcivescovo Italo Castellani Incontra I preti E i fedeli Della diocesi In una serie Di appuntamenti Per tutto il mese Di marzo Fino poi Ai primi giorni Di aprile Nelle varie zone Pastorali Della diocesi Segnaliamo anche Che a Lucca Ci sarà Il 5 di maggio Il cardinale Ravasi Che parteciperà Riceverà Un premio In particolare Durante la quinta edizione Di Lucca Classica Music Festival Sulle pagine Della Maremma All'Elba Il notiziario Della diocesi Di massa marittima E piombino Si mette In evidenza In prima pagina Un'opportunità Di lavoro Per i giovani Elbani Ovvero i corsi OSS Ovvero per operatore Sociosanitario All'interno Degli ospedali Questi corsi Per la missione Ai quali domande Scadranno A marzo Rappresentano Un'ottima Occasione Lavorativa Per i giovani Del territorio Elbano Che di questo genere Di operatore È in continua Ricerca Su Vita 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 Diocesi Di Pisa Il saluto Ha una figura Importante Anche per Toscana Oggi Monsignor Aldo Armani Un pezzo Di storia Della città E della chiesa Locale Se ne va Con la morte Del sacerdote Pisano Monsignor Aldo Armani Ha avuto Vari Incarichi Vari Impegni All'interno Della Diocesi Ma In particolare Per quello Che ci riguarda Quando nel 1994 La Diocesi Di Pisa Decise Di entrare Col suo Settimanale Appunto Vita Nova All'interno Della famiglia Di Toscana Oggi Fu Affidato Proprio A Monsignor Armani Il compito Di Guidare La Redazione Locale Di Curare L'ingresso Della Diocesi All'interno Del Settimanale E quindi Lo salutiamo Anche noi Gli siamo Grati Lo ricordiamo Con affetto E con Gratitudine Per tutto Quello Che ha fatto Sul confronto Sulle pagine Di Pitigliano Sovana Orbetello Troviamo In prima pagina Come apertura Alcune priorità Nella pastorale Diocesana Il vescovo Giovanni Roncari Nell'ultimo incontro Del clero Ha anticipato Che sta scrivendo Una lettera Pastorale Che uscirà Una volta terminata La visita Alle parrocchie E qui Saranno indicate Alcune delle priorità Nella programmazione Diocesana Dei prossimi anni E poi L'altra cosa Che è stata Annunciata Sono le celebrazioni Per il millennio Gregoriano Che sarà celebrato Nel 2020 A mille anni Dalla nascita La sovana Di San Gregorio Settimo Sull'araldo poliziano Diocesi di Montepulciano Chiusi e Pienza C'è una nota Una nota Approvata Dal vescovo E stilata Preparata Dall'ufficio Per le comunicazioni Sociali Il tema È quello Del corretto Utilizzo Dei social media Un tema Di grande Attualità I social Si dice Rappresentano Una nuova realtà Culturale Sociale Da saper Utilizzare Anche nella chiesa E così Arriviamo Alla voce Di Prato Qui un approfondimento Sul progetto Policoro Il bilancio Dello sportello Aperto alla caritas Per aiutare I giovani Proprio Su come Orientarsi Nel mondo Del lavoro E qui Troviamo La storia La storia Di David Che è diventato Consulente Informatico Dopo Cinque anni Da operaio specializzato Ed era rimasto Disoccupato Voleva cambiare La sua vita Rimettersi in gioco E ci è riuscito Proprio Grazie al progetto Policoro Dove è arrivato Grazie al Suggerimento Del parroco Sulla domenica Diocesi di San Mignato Il volto giovane Della fede Si parla della giornata Diocesana Dello scautismo E anche nelle immagini È ben raffigurato Appunto Questo volto giovane Con le decine Di ragazzi Che hanno partecipato A questa bella giornata E così arriviamo E così arriviamo a Siena Colle Valdelsa E Montalcino Qui troviamo La consegna Del credo Da parte Dell'Arcivescovo Ai Cresimandi Di quest'anno Sarà nella quinta Domenica Di Quaresima In cattedrale L'Arcivescovo Buon Cristiano Ha detto Siamo tutti Chiamati A conservare La propria fede Sulla voce Di Valdinievo Le diocesi di Pescia Accogliere i fratelli Per essere uomini E testimoni Di Cristo Questo è il messaggio Lanciato Durante l'incontro Con l'Arcivescovo Di Ferrara Comacchio Monsignor Perego E su vita Puana In apertura Ritroviamo Suor Serafina Fornai Che è stata Dichiarata Venerabile Ne abbiamo Già parlato Sulle pagine Regionali Madre Serafina È stata La fondatrice Delle suore Del lieto Messaggio Di Pontremoli Sull'araldo Di Volterra La preghiera Per i cristiani Perseguitati Nel mondo Uniti nella preghiera Con il Papa E poi ancora Invece Una indagine Sui luoghi Del silenzio In particolare Sul monastero Di Valzerena Una vela Innalzata Nel cuore Della Toscana E con questo Si chiude La nostra Rassegna stampa Di questa settimana La presentazione Del nuovo numero Di Toscana Oggi Un grazie Per chi ci ha Ascoltato E l'appuntamento Come sempre Torna fra una settimana Direttore Grazie a tutti.